Io ho ascoltato le parole del Presidente Obama con una grande apertura e con grande interesse. Credo che soprattutto il passaggio sull'Iran abbia rappresentato un punto molto importante, in parte inatteso, devo dire la verità, anche da parte nostra, che pure siamo quelli che speravamo in questa apertura. E aver ascoltato quell'apertura è un fatto sicuramente molto importante. Ovviamente gli effetti benefici, che è una distensione, è ancora presto per parlare di questo, ma insomma gli effetti benefici che una relazione diversa tra Stati Uniti e Iran potrebbero avere, possono toccare molteplici scenari. Molteplici scenari e quindi noi siamo tra quelli molto interessati a agevolare questo tipo di colloquio e quindi l'incontro di oggi pomeriggio con Rouhani sarà per me importante per spingere in questa direzione.